oggi ci troviamo in uno dei vicoli più stretti delle serre guardate ci troviamo a brognaturo io sono anche dimagrito quindi vedete passo tranquillamente diciamo guardate questo è il mio braccio saranno 50 60 centimetri non di più vedete queste sono le stradine che si trovano in questo meraviglioso borgo di brognaturo guardate che meraviglia tutte le case ancora come erano una volta con calcio e granito quarzo pietre semplici di fiume vedete poi ci sono anche le case moderne qualche giorno faremo un giro per brognaturo vi farò vedere tutte le case più antiche del paese e magari andremo da qualche signora che ci preparerà qualche piatto tipico guardate che meraviglia ci sono ancora i cartelli svolto obbligatorio a sinistra e poi per terra le strade sono tutte in porfido oggi il 16 di gennaio del 2022 guardate che meraviglia cioè vedete brognaturo è come un piccolo presepe dove quando ti fai una passeggiata semplice nei vicoli incontri sempre gente che ti saluta anche se non ti conosce grazie a tutti